Venertì 26 maggio alla chiesa di Santo Stefano a Belluno, la società Dante Alighieri celebrerà la giornata della Dante dedicata quest'anno alla Madonna addolorata. Un incontro alle ore 17 che ritengo possa piacere non solo ai soci ma alla cittadinanza tutta. Da tempo pensavo alla Madonna addolorata, alla nostra Madonna addolorata a cui tutti sono devoti e perché non ringraziarla ora dopo che siamo usciti da una pandemia che ci ha costretto a ritirarci, a chiuderci noi stessi e sono trascorsi anni ormai. Un momento di condivisione in cui la poesia si intreccerà alla musica. Abbiamo concepito questo incontro disposto in maniera tale che si alterneranno dei lettori, dei narratori di alcuni brani di letteratura, riferentesi alla Madonna. Ci sarà Pierluigi Svaluto Moreolo, ci sarà Maurizio Mellini Dantista, ci sarà Giorgia Polloni, anch'essa come svaluto giornalista e impegnata nel seguire anche i nostri eventi. Il tutto sarà intervallato da suoni d'organo del maestro Giovanni Piolle.